Sono le 18.55 del 9 aprile 2024 attraverso il Campamonte. Ecco un posto di scola a secco, sono arbusti e questa è della famiglia della guercia, la roverella. Questo c'è un diametro senza esagerazione di un metro. Questo è ultra secolare. Guarda un po' i terreni che prima producevano e adesso sono incorti. Ed ecco un altro, guarda maestroso quest'altro albero. Anzi se mi metto da qui sotto, avvicino, avvicino. Guardate la corteccia, quanto è bella la corteccia. Il muschio è alto, venti metri.